Ciao, oggi ti mostrerò come attivare un trasferimento di chiamata fisso sul tuo cellulare verso un altro numero telefonico. Potrebbe esserti utile attivare un trasferimento di chiamata perché magari, esempio, ti devi ricare all'estero in un paese veramente fuori Europa con tariffe impensabili che anche se ti arrivasse un messaggio o una chiamata magari vai a spendere decine di euro e preferisci perché hai una segretaria o perché non vuoi parlare con nessuno, non vuoi essere disturbato trasferire tutte le tue chiamate al tuo ufficio o a una persona di tua fiducia, a una tua segretaria o qualcuno o per qualunque altro motivo. vuoi far sì che il tuo cellulare sia perennemente in trasferimento di chiamata anche per solamente per alcune ore, per alcuni giorni o per dei mesi o per delle settimane. Ti farò vedere la stringa valida per tutti gli operatori telefones. Allora, mettiamo che tu vuoi andare a attivare questo trasferimento di chiamata. Quello che devi fare è molto semplice, devi andare a digitare questa stringa che è asterisco, asterisco, 21, asterisco. Poi in questo caso mettiamo io voglio deviare tutte le mie telefonate sul mio cellulare verso il mio ufficio. 0571 19 64 248 A questo punto qua, premo di nuovo asterisco, 11, cancelletto e premo il tasto verde. Praticamente deviazione di chiamata registrazione effettuata. Bene. A questo punto qua, quello che vedrai in alto a sinistra, accanto alle tacchette dove c'è il segnale del 4G, vedrai il segno di una cornetta, come vedi, con una freccetta centrale verso destra. A questo punto tutte le telefonate che arrivano da questo momento in poi sul mio numero di cellulare vengono trasferite al mio numero dell'ufficio. Per disattivare questo trasferimento che è H24 tutti i giorni, è molto molto semplice. Basta andare a digitare, cancelletto, cancelletto, 002, cancelletto e premo il tasto invio. Benissimo. Deviazione di chiamata, eliminazione effettuata. A questo punto, come vedi adesso in alto sulla sinistra, non c'è più il segnettino della cornetta con la freccettina e la deviazione di chiamata, il trasferimento di chiamata, è stato cancellato. Ti ricordo che la stringa che ti ho fatto vedere, che è cancelletto, cancelletto, 002, cancelletto e premi poi il tasto verde di invio e anche la solita stringa per andare a eliminare la segreteria telefonica di qualunque operatore telefonico, come ho già fatto vedere in altri video. Spero che questo breve filmato ti sia stato utile. Iscriviti al mio canale YouTube Matteo Calloni. Mi puoi trovare anche sul mio sito MatteoCalloni.com, su Facebook, Twitter, Instagram e LinkedIn. Seguimi e ti darò un sacco di dritte utili sulla telefonia e tante altre cose. Ciao e al prossimo video!